Lei è il presidente della squadra di calcio che allenava Giovanni, lo conosceva molto bene? Certo, Giovanni era con noi già da un paio d'anni, aveva preso a cuore i ragazzi della UISP, aveva prima collaborato come giocatore e da quest'anno si accingeva a fare l'allenatore. Insomma, si erano tutti molto contenti, Giovanni compreso, c'era tanto entusiasmo e purtroppo poi è successa questa tragedia. Aveva deciso di fare l'allenatore perché oltre a doti tecniche molto elevate aveva un carattere importante. Giovanni era un ragazzo eccezionale, appunto oltre ad essere un bravo calciatore, era un bravissimo ragazzo disponibile verso tutti, sempre affabile, allegro. Insomma, insieme si era deciso di provare a fare anche l'allenatore e sicuramente sarebbe stato un allenatore bravissimo. Io sono Savro Ravai, sono il presidente dell'AS di Viaccia Calcio. Sicuramente quando succede delle cose, quando muore una persona sono sempre delle cose brutte, però un ragazzo di 35 anni che è sportivo, un fisico atletico, uno che fa i controlli a posto che c'è tutti i certificati medici, succede una cosa così, cioè proprio non te l'aspetti. Poi è un ragazzo disponibile, a noi ci ha dato una mano anche a sistemare la cuscina perché era un amico di quelli che ci puoi contare quando hai bisogno e questa cosa veramente ci ha distrutto perché anche con l'attività non si sa cosa fare, cosa non fare. A parte con noi è stato tre anni fa, ci ha dato una mano a fare il campionato di seconda categoria, è un ragazzo bravo, non so cosa dirle. Non aveva almeno in apparenza problemi di salute? Se uno lo conosceva, tutti pensavano le foriche, un ragazzo di 1,80 m, asciutto, atletico, magari uno di un'altra età potrebbe anche pensare, però uno come lui sicuro non ti aspetti, se dovesse succedere qualche cosa non ti aspetti che succeda a lui, con il suo fisico. Uno delle colonne del circolo di Viaccia, lo conoscevate molto bene, lei mi ha detto che era uno di noi. Sì, era uno di noi perché frequentava assiduamente il nostro circolo, di cui io sono stato presidente per tre anni e niente, era un ragazzo che tutti i giorni stava con noi, giocava, giocava a carte, faceva parte di questo gruppo polisportiva. Era uno di Viaccia, non stando a Viaccia, ma era uno di Viaccia perché lui non abitava qui in paese. e niente, lo ricordiamo tutti con una persona con un grande impegno, specialmente nell'ambito sportivo del calcio, a cui era molto appassionato e pur di non staccarsi dal calcio aveva deciso di fare l'allenatore. Era il suo primo allenamento che dirigeva praticamente. E niente, è un grande voto perché tra l'altro era uno di quelli che frequentava sia il circolo che il campo sportivo e tutti i ragazzi qui di Viaccia. Lei è arrivato sul posto della tragedia ieri, c'era la riunione per la festa dello sport, vi hanno chiamato e siete arrivati subito. Sì, proprio così, eravamo tutti al circolo, chi è al campo, chi è al circolo, eravamo tutti presenti. Era la prima sera che ci trovavamo per organizzare questa festa e purtroppo quest'anno ce la facciamo.